Primo giorno di scuola e ci sono già dei bocciati o quantomeno rimandati a settembre ma a quello di quest'anno perché serve intervenire subito. Parliamo del trasporto pubblico per gli studenti. Tra ieri e oggi si contano a Bassano diversi disagi con bus pieni ben oltre il limite di capienza consentita e numerosi ragazzi appiedati come ci racconta uno dei genitori. Ieri primo giorno di scuola e primo giorno con dei ragazzi e delle ragazze che sono rimaste a piedi alla fermata dell'autobus del SVT. Non è che dobbiamo rassegnarci a questa situazione. È necessario prendere coscienza e chiedere dei cambiamenti per cui io ho segnalato a SVT questa situazione. Ho chiesto che le scuole si potessero coordinare meglio con gli orari per queste prime settimane di scuola dove ci sono ancora degli orari provvisori ma perché altrimenti il rischio è che ogni giorno ci siano problemi di servizi di questo genere. Ieri un conducente è addirittura sceso dal mezzo per spiegare agli alunni molti dei quali minorenni che non c'era posto e che sarebbero stati costretti a restare lì senza poter salire a bordo. Un problema anche per alcuni abbonati che dunque oltre alla beffa hanno subito anche un danno economico. La nostra regione deve potersi anche impegnare in questo versante qui perché ne va della qualità dei trasporti dei nostri figli e delle nostre figlie quando vanno a scuola che non è accettabile che sia a questo livello di ammassamento e con tutte le situazioni che rendono difficile anche lo svolgimento del lavoro da parte degli operatori di SVT, di autisti che cercano di fare il loro lavoro al meglio possibile ma che non vengono messi magari in condizione di dover portare del numero di ragazzi superiore a quello che è possibile.